senti il polso questo se senti un articolazione instabile senti questa cosa qua mentre se l'articolazione stabile non senti nulla tutt'uno mentre quando senti qua sento prima quella ti ho staccato ecco la sensazione che non è stabile come faccio a sapere se è normale o non è normale questa articolazione se è stabilizzata o non è stabilizzata lo sento da questo se sento questo movimento vuol dire che l'articolazione probabilmente non è molto stabile dovuto a cosa una lussazione mancata 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 ginastica propicezzi oppure la condizione muscolare un po se una condizione di perlassità tutto le donne sono più lasse rispetto dopo per un discorso di sesso purtroppo già di base così di più lasse rispetto a noi neanche questo bisogna così il sesso della persona un altro test che è fatto che ha fatto vedere fede possiamo fare una trazione della caviglia e vedere quanto riesco ad allontanare i capi articolari e sentire soprattutto la fase di rientro ora si chiama stiffness si chiama questa rigidità articolare io mando in trazione sono molte ossa l'importante sono la stragalo e il calcagno mando in trazione la cosa importante adesso quando io faccio il rientro questo e non sento niente se senti vuol dire che probabilmente non c'è molta stabilità per cui andremo a valutare sappiamo già che è una caviglia instabile